Quindi dovremmo fare una digressione nel presente perché il gesto di Berlusconi della conferenza stampa sembra quasi la naturale prosecuzione di questo capitolo che lo racconta nel libro di Fontana dove ci sono le corna, i tormentoni, le battute. Mi ricordo che una volta intervistai Crespi che era stato l'autore della famosa campagna quella più pensione per tutti eccetera e allora raccontava che aveva portato i bozzetti di questi cartelloni Berlusconi era contentissimo solo che lui aveva messo a fianco agli slogan la foto di un leone Allora Berlusconi dice la campagna è bellissima però non ci deve stare la foto di un leone che non c'entra niente ci deve stare la foto mia. Allora rifanno questi bozzetti e questo Hermolli che era il grafico di Berlusconi aveva messo una foto di Berlusconi di 93 tutto con una chioma di capelli molto florida e allora Crespi di fronte a Berlusconi quindi anche con un po' di fegato gli dice senta presidente mi dispiace ma questa foto non si può mettere era nel 2001 e Berlusconi in quel periodo era caldo non ha nessuna coerenza, non ci può stare, la gente si metterebbe a ridere allora questo Hermolli che era il grafico di Berlusconi esplode e fa ma come si permette il presidente è identico, uguale, non c'è nessuna differenza e allora Berlusconi ferma il suo collaboratore e gli fa no no Hermolli ha ragione Crespi non posso non avere i capelli nella realtà e averli sui tabelloni ma quando usciranno questi manifesti io avrò di nuovo i capelli allora Follini ha conosciuto bene Berlusconi ci ha trattato, ci ha litigato, è stato considerato un traditore da Berlusconi ma se è vero questo ritratto di Fontana non c'è dubbio l'uomo ha sette vite come i gatti, ha mille risorse usa la sua capacità mediatica e di queste ore è la notizia che tre programmi e tre direttori e conduttori di Mediaset sono stati fatti fuori praticamente in una settimana del debbio Mario Giordano e Belpietro perché dentro l'analisi di Berlusconi hanno tirato la volata ai populisti cioè a Salvini allora la domanda che volevo fare a Follini e un po' ne parlavamo prima era sono troppo grandi, too big to fall questi due leader Renzi, cioè leggendo questo ritratto di Fontana sembrerebbe di capire che sono troppo forti per scomparire ma non sono più abbastanza forti per dettare una linea che cosa doveva fare il PD sul governo secondo te? Ma intanto Berlusconi io un giorno mi trovai su un aereo Scaiola che allora era un ministro importante Scaiola mi disse guarda Berlusconi mi ha detto Follini mi odia io lo vedo da come mi guarda e Berlusconi è rimasto con questa idea per molto tempo e l'ultima volta che l'ho visto io ero già quasi fuori dalla politica e lui era ancora ben dentro gli dissi guarda Silvio ti voglio dire una citai un episodio che non vi sto a dire perché è quasi pettegolo io ho un profondo dissenso per come tu hai amministrato le tue fortune politiche che a un certo punto sono state le fortune del paese e quindi ti ho contrastato e rivendico tutte le volte che ho fatto accornate con te ma ti riconosco di essere una persona che ha uno spessore umano non banale uno spessore umano autentico e quando gli ho detto questa cosa eravamo fuori tempo massimo quindi non poteva trarne nessun beneficio politico però l'ho visto illuminarsi a riprova del fatto che Berlusconi è una persona che ha un sedutore no no penso che abbia uno spessore umano poi io penso che come di fronte a Fontana ha cestinato il dossier sulle sue malefatte comuniste immediatamente dopo abbia chiamato il suo collaboratore per ringraziarlo del dossier che era fondamentale quindi c'è anche in lui un aspetto di doppiezza però io penso che la lunga fortuna politica di Berlusconi debba qualcosa anche a questa sua caratteristica personale che non è da tutti e soprattutto non è tipica di quell'ambiente imprenditoriale dove c'è un certo diffuso cinismo io questa sera mi ritrovo un po' nella condizione di quello che fa il tifo per il passato e quindi vorrei muovermi da questa posizione però nel farlo faccio tre considerazioni telegrafiche la prima io penso che la politica sia soprattutto un esercizio di pazienza il leader è quello che sa ascoltare è quello che sa cucire prima Luca ha fatto riferimento alla mia esperienza di segretario di un partito della seconda repubblica che di per sé è un oggetto di vituperio Ricchetti mi può capire io avevo nel partito giovanardi e tabacci e li ho tenuti insieme per cinque anni e so solo io la fatica che ho fatto però pensavo che fosse il mio compito non per paralizzare la situazione ma perché qualunque situazione di movimento richiede un coinvolgimento più largo e dunque seconda considerazione noi siamo un paese che ha un fondamentale problema di coesione non lo dico perché vogliamo tutti essere buoni, affettuosi, premurosi gli uni con gli altri lo dico perché questa è la storia italiana noi siamo un paese diviso siamo un paese in cui le distanze sono diventate degli abissi siamo un paese in cui il divario tra i redditi tra i territori tra le generazioni è diventato più che urticante e dunque o la politica ha questa capacità di connessione oppure non ha senso non serve nessuna causa terza considerazione e questa però la faccio diciamo con un sentimento critico verso la piega che ha preso la nostra modernità noi siamo diventati un tempo un'epoca straordinariamente verticistica l'altra sera guardavo alla televisione un racconto piuttosto a geografico della famiglia Agnelli e delle prodezze dell'avvocato e mi veniva da fare questa riflessione la Fiat aveva più di 100.000 dipendenti e produceva un milione di automobili l'anno Facebook ha 2 miliardi abbondanti di utenti e ha 20.000 dipendenti mettete a confronto queste cifre e questo vi dice che il nostro tempo sta spiegando verso una dimensione verticistica piramidale che crea uno squilibrio insopportabile tra chi sta in alto e chi sta in basso tutto il resto è conseguenza e se noi non siamo capaci di rivisitare questa caratteristica che abbiamo dato al nostro tempo e innanzitutto a farlo dal lato della politica dove dovremmo essere o almeno cercare di essere padroni del gioco se noi non mettiamo in questione questi presupposti noi ci troveremo verso diciamo una deriva medievale con tutte le apparenze della modernità ma con un fondo di ingiustizia molto 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 angoscioso e io penso che la democrazia sia in primo luogo lo strumento che ci mette in grado di fronteggiare tutto questo punto a capo vengo alle domande che mi pone Luca io penso adesso non vorrei fino a 5 minuti fa ero amico di Matteo Ricchetti non vorrei compromettere la nostra amicizia io fossi stato il partito democratico un minuto dopo le elezioni avrei detto cari 5 stelle per quanto forte sia la nostra avversione nei vostri confronti noi dobbiamo prendere atto del risultato elettorale che porta a voi e noi accompagniamo questo percorso noi collaboriamo a un processo di istituzionalizzazione della protesta noi vi consentiamo di governare a condizioni serie e siccome la politica ha anche un aspetto concreto ci vogliamo anche mettere nella condizione che se mai questo esperimento dovesse deragliare saremo noi a dire che è arrivato il momento di rivolgerci al popolo italiano per un nuovo verdetto elettorale secondo me questa strada aveva un suo perché invece è prevalsa l'idea che i due populisti debbano mettersi d'accordo siccome non si metteranno d'accordo per fare il governo si metteranno d'accordo per fare le elezioni e io penso che non ne avrà un grande vantaggio il paese e non ne avrà un grande vantaggio il partito democratico e quindi se dovessi fare una profezia sul domani sul dopodomani sul tempo che ci è immediatamente davanti sarei preoccupato e se fossi un dirigente del partito democratico sarei doppiamente preoccupato non avrei la libidine del capogruppo di dire non vedo l'ora che governino quelli là perché poi sul disastro e sulle macerie che lasceranno noi sguazzeremo felici e contenti perché non funziona così la politica non è così allora noi abbiamo un tema epocale che è ricostruire le condizioni per cui le forze liberali cattoliche socialiste riprendano nella vita della Repubblica un ruolo perché è chiaro che c'è il populismo dei 5 stelle è chiaro che c'è il sovranismo della Lega ed è chiaro che queste sono le due forze che oggi vanno per la maggiore ma non esauriscono tutto lo spettro politico allora ho rispetto per chi crede negli uni e negli altri ma quelli di noi che non fanno parte né della compagnia di Di Maio né di quella di Salvini che destino hanno? Io penso che siccome la politica è diventata antropologia noi abbiamo tre comportamenti possibili davanti a noi noi abbiamo il comportamento zitellesco cioè hanno vinto i barbari noi siamo custodi di una civiltà e quindi li guardiamo dall'alto in basso li critichiamo a man bassa ci ritiriamo sotto la tenda orripilati da quello che sta succedendo nelle stanze del potere errore da matita rossa poi c'è il comportamento adolescenziale cioè il gioco è il populismo bene partecipiamo anche noi saremo più populisti di loro che è un gioco che abbiamo visto lungamente praticato in questi anni perché l'idea che si potesse fare la guerra alla casta dal balcone di Palazzo Chigi l'abbiamo visto all'opera questo tentativo secondo me non ha portato grande fortuna contiene un errore se si scende su quel terreno i detentori del marchio originario hanno sicuramente un vantaggio hanno un argomento che milita a loro favore il populismo è dei populisti non è degli altri gli altri hanno un compito diverso da svolgere e la terza possibilità è di cercare di costruire qualcosa che abbia un minimo di connessione con le memorie che ciascuno di noi si porta dietro non per essere nostalgici non per tornare alla DC al PC ci mancherebbe ma per dare uno svolgimento a correnti politici correnti politiche liberali cattoliche socialiste che ancora in una parte del paese esistono si agitano e reclamano un diritto e dunque penso che queste forze debbano riorganizzarsi con la mentalità dell'uomo diciamo di una certa età che a metà della sua vita si trova investito da una crisi che richiede una qualche trasformazione di sé e dunque lo fa col sentimento della maturità sapendo che una parte di vita non la può e non la vuole rinnegare ma un'altra parte è destinata a cambiare questo è il processo di trasformazione che sta davanti a tutta quella parte della politica italiana che non si raduna né sotto le bandiere dei 5 stelle né sotto le bandiere della Lega per fare questo io penso per rispondere alla domanda che fa Telese che occorre sbaraccare il campo da Berlusconi e da Renzi lo voglio dire chiaro lo voglio dire senza infingimenti e senza ipocrisie perché due signori che hanno condotto le loro armate a questo punto non possono stare appollaiati sulle macerie armati fino ai denti dicendo o facendo capire o sottintendendo che il futuro possa essere ancora nelle loro mani io lo dico a partire da me guardate io mi sono ritirato dalla politica che ero ancora in carne potevo ancora fare il parlamentare potevo ancora giocare un ruolo ora ne ho avuto una disperazione relativa il paese ne ha avuto una perdita molto limitata ma siccome si è fatto a meno di me egoisticamente penso che si possa fare a meno anche di qualche di un altro e se vogliamo ridare a quel territorio intermedio a quella grande Italia di mezzo che spazia da Berlusconi a Renzi e dintorni io penso che occorre cambiare un po' il manico per una volta scendo io sul terreno della leadership non è detto che debbano essere loro hanno avuto la loro occasione bisogna girare pagina bisogna rivolgersi ad altri bisogna scommettere su di una nuova classe dirigente e infine voglio dire una cosa che però è il cuore della riflessione politica che mi preme guardate noi siamo reduci da una stagione nella quale ci siamo raccontati a vicenda che il tema vero era scegliere tra il vecchio e il nuovo poi ci siamo accorti che il nuovo aveva molte fattezze antiche e che nel vecchio c'era qualche qualità punto a capo il tema non è questo il conflitto non è tra il vecchio e il nuovo il conflitto è tra il vero e il falso il conflitto è tra chi interpreta la politica con un sentimento di autenticità e chi recita e questo nell'opinione pubblica è un punto che è passato epidermicamente c'è oggi il verdetto del 4 di marzo è un verdetto una sentenza temo inappellabile sulla classe dirigente e dunque o la classe dirigente che verrà riesce a custodire in sé un sentimento di autenticità a presentarsi per quello che è a non fingere di essere diversa a raccontare la propria storia o si prende questa strada oppure il vento dell'illusionismo che ha portato in molte direzioni e da ultimo ha portato nelle direzioni della Lega per un verso e dei 5 Stelle dall'altro non si fermerà e non lo fermeremo con le mani e quindi dobbiamo avere la capacità non di rincorrere l'onda della demagogia più facile e più corriva dobbiamo avere la capacità di dire le cose anche qualche volta sfidando l'impopolarità anche accettando la controversia anche assumendo un punto di vista che possa non essere facilissimo ma la politica è questo la politica è una forma di pedagogia è una forma di accudimento ed è infine il rapporto con gli elettori e allora per concludere su questo io sono stato molto colpito in questi ultimi giorni nel vedere tanti divi del cinema che hanno spiegato improvvisamente che Salvini era diventato Winston Churchill io non me ne ero accorto loro se ne sono accorti tutti insieme guarda caso all'indomani del risultato elettorale però per quanto io avversi e contrasti quella politica credo che a Salvini vada riconosciuto un merito è l'unico che il giorno dopo si è affacciato sul suo elettorato ha parlato alla sua gente ha ringraziato per i voti che ha preso ha in qualche modo proseguito la campagna elettorale che è una campagna elettorale che ha un timbro di verità per quanto sia ai miei occhi una verità sgradevole allora bisogna essere capaci di costruirne un'altra non costruirla in laboratorio ma viverla e viverla con un certo spirito Gian Battista mi perdona io chiudo con un riferimento che mi è capitato di fare una volta che c'era anche lui ma lo voglio rifare perché per me è un po' il cuore della politica Kafka negli ultimi giorni di vita era malato e andava ai giardinetti vicino alla sua casa e un giorno incontra una bambina che piange e allora si rivolge verso questa bambina con tenerezza e le dice che succede e lei dice ho perso la bambola la mia bambola mi ha lasciato e allora Kafka con la genialità del grande artista le dice no non ti ha lasciato la tua bambola voleva solo vedere un altro pezzo di mondo l'ho incontrata io poco fa e mi ha detto che ti pensa che ti vuole bene e ti scriverà una lettera se vieni domani io penso di poterti far avere la lettera che la tua bambola ti ha scritto e la sera torna a casa si china sui fogli con fatica scrive questa lettera la mattina dopo torna nel parco incontra la bambina e di lì comincia questo racconto della bambola alla sua bambina attraverso Kafka ecco voi mi dite che cos'è la politica la politica è questa roba qui e allora dico a quelli più giovani riprendetela con questo spirito riprendetela in mano e riconsegnatela ai vostri elettori grazie scrive Fontana pagina 78 forse Renzi ha sottovalutato la capacità di risorgere del capo del centrodestra in grado di fare a meno anche il suo factotum Denis Verlini andato con Renzi dopo la lottura fra Forza Italia e PD sulla riforma costituzionale il passaggio il passaggio di Verlini nel mondo renziano ha fatto certamente più male al Premier che a Berlusconi nell'immaginario della sinistra è l'impresentabile e averlo improvvisamente al proprio fianco ha determinato un pesante colpo d'immagine e la credibilità del Premier se questa è l'analisi cioè di un mondo che si è staccato perché i voti del centro-sinistra o del PD non sono andati da qualche altra parte perché Liberi Uguali è andato altrettanto male anzi addirittura in modo parallelo dove il PD va un po' meglio Liberi Uguali va un po' meglio dove ma male va male anche Liberi Uguali cioè è come se questi elettori questi due milioni e mezzo di elettori del PD di cui tutte le indagini hanno magnificato il percorso improvvisamente abbiamo rotto il loro logame di appartenenza e abbiamo detto Renzi mi ha deluso ma allora io vado direttamente a votare Grillo che dinamica vedi in questi passaggi in quello che è definito il campo dell'antipolitica del populismo e soprattutto ti sembra un voto in libera uscita che cambierà le sorti del bipolarismo italiano oppure un voto che torna all'ovile che ne so appena Ricchetti diventa segretario intanto in questo momento parecchio complicato capire che tipo di voto certamente il voto è diventato negli ultimi anni enormemente mobile pensate a cosa è accaduto in Sicilia dove appena due mesi prima il centrodestra aveva vinto le elezioni e due mesi dopo i 5 Stelle hanno superato il 50% con un risultato che quasi nessuna formazione politica aveva mai raggiunto nella storia d'Italia io penso la descrizione mi riconosco molto nella descrizione oltre che nella bellissima chiusa di su Kafka anche nella descrizione è fatta della parabola di Renzi io penso che Renzi faccio anche una confessione io ho avuto un'enorme fiducia in Renzi nel Renzi nell'esperienza iniziale di Renzi perché mi sembrava mi sembrava un leader coraggioso mi sembrava che interpretasse il bisogno di modernità della sinistra che rompesse alcuni tabù che fosse capace di parlare alla sua gette e che sapesse interpretare come dire il vento che soffiava e tutto sommato lo ha saputo fare io credo che Renzi con il suo 40,7% ha come dire intercettato e un po' svuotato anche la ventata e l'ondata populista che stava già crescendo nelle elezioni europee dopodiché e penso che abbia fatto tre errori fondamentali il primo errore è un errore di interpretazione di quello che stava accadendo nella società non aver capito un tema sicuramente aver posto anche alcune soluzioni giuste non averle sapute perseguire ma soprattutto non aver capito che quello che stava accadendo nella società soprattutto in quella meridionale era qualcosa come dire se uno vuole essere marxista strutturale aveva a che fare con qualcosa che non erano solo sensazioni emozioni eccetera ma andava stava cambiando la vita delle persone perché se al sud non c'è una persona che si affaccia al mercato del lavoro giovane che ha una possibilità ha zero possibilità di ottenere un lavoro perché non esiste più perché non c'era possibilità quei pochi che ci sono passano per dinamiche non trasparenti la promessa fatta di andare a cambiare rivoluzionare questo sistema non era efficace ricordami ci sono alcune promesse di Renzi andrò ogni giorno a visitare ogni mese ogni giorno non me lo ricordo ogni settimana una scuola e la rimetterò a nuovo e poi si partorisce una riforma della scuola che serve solo a sistemare un altro po' di situazioni precarie cioè c'era una come dire c'erano delle questioni strutturali di risposta all'economia alle persone profondamente colpita da dieci anni perché arrivavamo da dieci anni di crisi che Renzi non ha saputo comprendere fino in fondo e la narrazione fatta è stata da un lato una narrazione di un paese che stava migliorando che stava andando bene una narrazione in cui i protagonisti erano alla fine sempre lui che era partito come è vero che era partito come un populista di governo diciamoci la verità Marco Revelli in un libro lo ha inquadrato molto bene alla fine arriva per cui la glorificazione di quello che si faceva erano marchionne erano alcune industrie del nord erano la California tutte cose giustissime ma non capendo che alla fine c'erano milioni milioni di persone che vivevano in un altro mondo cioè lui stava in un mondo e questi vivevano in un altro vivevano tanto in un altro mondo che quando decide di dire qual è il punto fondamentale che cambierà il paese qual è la rivoluzione dopo di che l'Italia sarà un'altra sarà nuova e migliore è la riforma costituzionale e qui come dire posso dire personalmente mi sono cominciato a cadere le braccia ed è il momento in cui comincio a dedicare i correnzi abbiamo avuto lo ammetto Righetti lo sa abbiamo avuto diciamo 6-7 mesi e poi 2-3 anni di rapporti non tanto diciamo così non tanto idilliaci ma questo accade perché da quando scrivo e cominciamo a non capirci un editoriale molto prima del referendum costituzionale io gli dico io non capisco perché una riforma costituzionale che tutto sommato positiva con aspetti positivi positivi per esempio nel rapporto nella redefinizione del rapporto Stato-Regioni meno in quello il modo in cui faceva si ridisegnava il Senato a me un Senato delle Regioni con una elezione di secondo grado mi sembrava una cosa non mi sembrava un granché mi sembrava abbastanza pasticciata però al di là di come la vogliamo considerare non è che dopo quella riforma pure se fosse passata sarebbe nata la nuova Italia e sarebbe il paese sarebbe cambiato i problemi strutturali del paese sarebbero stati risolti ho detto io credo che se il centro-sinistra scrisse nelle editoriali decidesse di avere una priorità da dare al paese è economia economia lavoro lavoro queste sono le questioni perché le questioni dell'esclusione dell'esclusione sono la questione fondamentale quindi è nata cominciamo a non capirci non ci capiamo poi quando dico una banalità permettetemi in un momento in cui il diciamo già il ciclo di Renzi cominciava a scrittiolare nel momento in cui decidi di rompere con Berlusconi permettete errore politico qui siamo però negli errori politici tu rompi con Berlusconi sulla riforma costituzionale lo puoi fare giustissimo ma ti consegni mani e piedi a tutti i tuoi nemici interni nel partito e a una situazione in cui ormai sei solo contro tutti quando io dico ma perlomeno se proprio questa riforma personale ne discutiamo è così rilevante ma almeno cerca di stare al tema che non so definisci gli argomenti più importanti cerca di far capire alla gente che stiamo votando